il ruolo è tutto a sinistra della pista mauro ricevuto perché ho fatto il finale tra i tagli ho l'iscrizione una leggera componente di 21 coda a presenza di uomini in mezzo perché c'era un po' di vento la teranea che mi ha spostato perché tieni la croce a sinistra te l'ho fatto vedere hai fatto anche tutto il ruolo con la croce a sinistra devi tenere le ali orizzontali e dopo non aspettare l'ultimo momento che ti siamo spiaccicati sulla pista per richiamare preparati prima diciamo 10 metri prima non so 10 ma per ora prima quando vedi che sei tutto a sinistra vuol dire che hai la croce a sinistra e lui va via a sinistra colpetto di croce a destra e ritorni al centro ok? vai per caso non hai intenzione? no perché ti raccomando qualcuno che ti mette a sinistra non ho preguito io sarà sarà ubertino vai clean bravo briefing emergente se dovesse succedere andiamo al rito davanti sono i 50 metri in calma vita in calma di venti passiamo 180 a destra perché a sinistra ci sono gli altri mauro ricevuto ciao Michele intanto buongiorno per l'informazione c'è il P92 il fruttovento avanzato 09 buongiorno a te è copiato il traffico ha in mano intenzioni? io allungo e se vi setting stringe andiamo tutti d'accordo a fare fatto con un paese con un paese sono i paese sono i pizzeri d'accordo mi sono i pizzeri per l'iniziamolo e sono i pizzeri ho i pizzeri Alla prossima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti